E' quello che ha Cristiano, penso che fa delle cose ogni tanto che è solo proprio sua e possiamo dire che è uno dei più belli gol della storia del calcio. Può darsi che non è più bello che il mio, quello che ho fatto in Glasgow, perché l'avevo detto in spagnolo, quindi lo dico in italiano, però questo è l'ultimo, quindi vale questo gol. Il pass è un buon pass, ma lo che fa è incredibile, credo che è marato per la storia il gol che ha fatto Cristiano oggi, è che poco ma si deve dire, soprattutto che l'aficione rivale applausi, credo che lo dice tutto. Non sono assolutamente preoccupato, dispiaciuto per il risultato, perché la squadra per il finale di Dybala ha fatto, credo, se non l'ho visto male, la miglior partita della Champions. Bisogna essere bravi anche a reagire a questi risultati, a questo risultato, perché sabato e da domani bisogna pensare al campionato e quindi bisogna subito metterla da parte e andare avanti. Sono dispiaciuto per i ragazzi perché hanno fatto quello che dovevano fare.